Non cominciare col vengo anch'io, tanto qui non ti fanno entrare, non combinare i soliti casini. Ma quali casini? Due minuti, risolvo con mio suocero e torno. Tu stai qui, guardi un po' di mascherine, magari allunghi la mano, ti fai la carità. Buonasera. Monsieur, je suis désolé, mais vous n'êtes pas masché. È certo che non sono mascherato, devo parlare con mio suocero due minuti, signor Salvetti. Oh, monsieur le clochard, entrez, je vous en prie. No, guardi che devo entrare assolutamente. No, ce n'è... Ma dai, tu fai i soliti casini, tanto quanto fanno entrare. Guardate tu mascherina, eh? Ci vediamo dopo, ciao. Il signor mi è un mio amico, è Semona Mi. Semona Mi. No, no, non ce n'è... Semona Mi, cazzo, Semona Mi. Oh, allora. Parcheggiatore! Parcheggiatore senta per piacere che io non ho l'autista. Mi aiuta a trovare un posto, ma per piedà non mi lascia rimanere imbottigliato che poi magari non posso andare più via perché ci si mette davanti il solito marpione. Ma lei è il parqueggiatore. Si è. Ma lei è il parqueggiatore. 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 Ma lei è il parqueggiatore.